Senta, Landini sulla commissione di garanzia troppo compiacente con il governo, da parte sua un commento? Si era già espresso prima ancora delle indicazioni, delle indicazioni addirittura delle dichiarazioni del ministro, mi sembra un po' pretestuoso. Quindi diciamo questa scelta, questo verdetto della commissione, non è come dice Landini orientato in favore poi del governo e della precettazione? Io, se ne ho letto anche oggi l'intervista, mi sembra abbastanza di dettaglio anche sul piano giuridico, con l'Irlandina, sull'Egittimio Pino, siamo in democrazia. È un testa a testa un po' per il sindacato e il governo, insomma il governo usa i suoi strumenti anche legislativi e il sindacato reagisce con l'unico strumento che sono qua, lo sciopero. A me sembra tutta una dinamica abbastanza corrente, usuale, che il sindacato vuole superare, superasse, il governo vuole garantire la fruibilità dei servizi in fuori utenze. Grazie.